Il CSTP da un nuovo via libera alla ricostituzione del capitale sociale. L'Assemblea dei Soci, riunitasi nella sala riunioni della sede storica di Piazza Luciani a Salerno, ha deliberato infatti sul ripianamento delle perdite maturate il 30 aprile e sulla ricapitalizzazione alla presenza del notario d'Aquino. Gli enti presenti hanno votato a favore di un versamento entro il 20 giugno delle quote per la copertura delle perdite pari a 2.912.000 euro di una ulteriore quota di 1.250.000 come prima tranche per la ricostituzione del capitale sociale su una ricapitalizzazione complessiva di 2.600.000, quindi la quota restante che sempre in Assemblea si è deciso di saldare entro il 20 luglio. Da verificare il rispetto di queste nuove scadenze che potrebbero risultare decisive, garanzie in tal senso dovranno essere presentate il prossimo primo luglio in occasione dell'udienza al Tribunale fallimentare. Già a novembre scorso del resto il consorzio aveva deliberato in favore della ricapitalizzazione oltre ai delegati della provincia di Salerno e del comune capoluogo, gli assessori Cuozzo e Cascone. All'Assemblea hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Angri, Baronissi, Cavate, Tirreni, Fisciano, Nocera Inferiore, Pellezzano, Sant'Egito del Monte Albino, Sarno, Scafati e Vietri sul mare. Tra gli assenti Mercato Sanseverino che, alla vigilia dell'appuntamento, aveva ribadito di essere in regola con le rate arretrate di non aderire alla ricapitalizzazione rispetto alla quale, secondo l'amministrazione della Valle dell'Irno, con la normativa vigente non ci sarebbe possibilità di procedere. Voto in gran parte favorevole in ogni caso in Assemblea per la ricostituzione del capitale sociale con due sole astenzioni, Baronissi e Sant'Egidio. Il presidente del Collegio dei liquidatori Sant'Occhio e il direttore generale Barbarino hanno inoltre proposto agli enti proprietari, rifacendosi la relazione dell'esercizio provvisorio, di versare successivamente un'ulteriore quota di 2 milioni e 400 mila euro per consentire alla società di riportare il proprio capitale agli originari 5 milioni. Un aspetto sul quale i soci hanno deciso di effettuare una valutazione su proposta dall'assessore provinciale Cuozzo verificare la possibilità dell'ingresso di capitali privati con procedure di evidenza pubblica alienando una quota minoritaria, non prima però di aver ottenuto il via libera dal commissario giudiziale Negro. La questione sarà discussa in un'altra Assemblea da convocarsi dopo la ripresa delle procedure del piano concordatario. Intanto l'attenzione si sposterà sulla revisione dei contratti di servizio con la provincia di Salerno per ottenere il ripristino dell'originario corrispettivo ridotto nel 2002 con l'accordo Ponte per poter contare su maggiori risorse. I soci torneranno a riunirsi il 27 e 28 giugno per approvare il bilancio 2012 e nominare il collegio sindacale.